Presidente, è una giornata importante oggi per Palmanova, ma soprattutto per i beni culturali del Friuli Venezia Giulia. Sì, assolutamente, stiamo prestando molta attenzione a questo nostro patrimonio che va curato, protetto, pulito. Qui siamo di fronte ad una realtà veramente importante, con pochi soldi, mettendo insieme le forze, la protezione civile, il servizio forestale della regione, l'amministrazione comunale e ovviamente anche il consorzio dell'edratagliamento. Siamo riusciti a fare davvero, con poche risorse, un lavoro straordinario. Abbiamo recuperato l'acqua nel fossato di Palmanova che mancava da decenni e abbiamo restituito un altro pezzo di questa splendida città ai propri cittadini, ma direi a tutta la regione e anche ai tanti turisti che speriamo riescano a venire a raggiungerci qui, anche perché questo nostro patrimonio dobbiamo renderlo visibile. Palmanova è candidato a UNESCO, la regione si sta impegnando per raggiungere questo obiettivo. Certo, per ottenere il riconoscimento UNESCO e anche per mantenere la possibilità che Palmanova insieme ad altre città a fortezza possa entrare nel sentiero culturale indicato dal Consiglio d'Europa, dobbiamo naturalmente renderla ancora più bella e fruibile. E per fare questo naturalmente ci impegniamo anche a più livelli, nel senso che stiamo creando delle alleanze importanti, noi stiamo lavorando come regione ad un protocollo di intesa con il Ministero dei Beni Culturali che ci permetta anche di trovare risorse che possono essere destinate a questo luogo e naturalmente anche per sollecitare un intervento da parte del Ministero di visibilità di questo bellissimo nostro patrimonio. Sindaco Martinez, dopo quasi più di vent'anni torna l'acqua nel fossato di Palmanova con un intervento che è costato poco alle casse comunali. Certamente, il costo è minimo, sono circa 6-7 mila euro, ma grazie al lavoro fatto dai forestali, del Fessorato dell'Agricoltura, al volontariato, hanno riportato alla luce un angolo splendido di Palmanova che fa parte di quel parco dei bastioni che ci sta dando grandi soddisfazioni, che sarà un elemento di forza per il riconoscimento UNESCO di questa città. Grazie.